Eccoci qui in compagnia del Presidente Ligorna Torrice. Presidente, una sconfitta amara, partita iniziata subito male in salita e poi non siete riusciti a reagire. Abbiamo regalato completamente il primo quarto d'ora, siamo andati sotto 3 a 0, prime tre mezze palle e meno palle, tra cui sul secondo c'è un fallo evidente, comunque niente da dire. Poi abbiamo riaperta, se non c'è nulla al 3 a 1 come c'è annullato, sicuramente la partita la riprendiamo, poi è diventata una partita tutti loro indietro e ogni volta che ripartiamo in contropiede era un problema. Meglio perdere 1 a 4 a 0 e vincere le altre. Ora dobbiamo vincere con l'Eco e se vincere con l'Eco ce la facciamo. Ecco, ora due impegni veramente molto complicati. Diciamo che per la matematica ci fallerebbero 5 punti, con i risultati di oggi sicuramente bastano 3, abbiamo il primo match ball con l'Eco in casa e poi andiamo a savonare l'ultimo. Siamo qua, è giusto, dobbiamo soffrire fino alla fine. Grazie mille.